11.30 precise per cui se siete d'accordo inizierei, inizieremmo. Intanto grazie per essere qui, grazie al Festival della Politica, grazie alla Fondazione Pellicane, grazie a M9. Tutti i ringraziamenti sono dovuti perché organizzare un festival in presenza di questi tempi potete immaginare non sia stata una cosa molto facile. Invece c'è bisogno anche di tornare nelle piazze e soprattutto nelle piazze per delle belle occasioni come incontri culturali. Grazie ovviamente anche a Marianna Aprile che non ha bisogno di presentazioni, giornalista, scrive su Oggi, la sentiremo in radio da lunedì. L'abbiamo vista in televisione, quindi la vediamo spesso in televisione, soprattutto sulla SET, per cui sicuramente è un volto noto. Io sono Martina Carone, sono una consulente in comunicazione e analista di Quorum Utrend, solitamente cito entrambi perché Utrend è uno dei marchi più noti e lo dico senza modestia riguardo le analisi politiche, i dati, le ricerche. In tutto ciò mi occupo anche di fare la consulente in comunicazione, prevalentemente comunicazione politica, per cui l'occasione della presentazione del libro di Marianna, che è appunto Il Grande Inganno, edizioni PM, in realtà è uscito qualche tempo fa, ma... 2019. 2019, peraltro abbiamo già avuto modo anche di parlarne insieme, quindi per me è un incontro tra amici questo, tra amiche e amici. In realtà è un'ottima occasione perché da questa opera, da questa sua fatica, partono diversi spunti per ragionare su alcune questioni che ultimamente, per fortuna o purtroppo, stanno tenendo banco nel mondo dell'opinione pubblica e del dibattito pubblico. Il libro infatti si intitola, ve l'ho già detto, Il Grande Inganno. Oggi chiederemo anche a Marianna cosa significa Grande Inganno. E soprattutto il sottotitolo è First Lady, nemiche perfette ed eroine silenti, così la politica nasconde le donne. Per cui già dal sottotitolo capiamo qual è l'argomento. Prima di darti la parola, Marianna, volevo nuovamente ringraziarti. Dire che questo libro si struttura sostanzialmente in tre parti. Quindi una prima parte in cui c'è un'ottima riflessione riguardo cosa significa il ruolo delle First Lady in Italia, se c'è, se non c'è, che cosa rappresenta, su cosa ci permette di ragionare. Una seconda parte con degli esempi molto plastici, diciamo, di quello che è appunto questo ruolo. E poi dei dialoghi, interviste con alcune delle rappresentanti, diciamo, del mondo della politica al femminile. Per cui, Marianna, io ti lascio la parola ringraziandoti ancora e ti do il là chiedendoti subito che significa il grande inganno e aggiungo, sei tu questa in foto perché so che te lo chiedono tutti e quindi ne approfitto. Ma magari, è la moglie di Steve McQueen. Magari, no, è tutto. Quella dietro, però ho i capelli corti. Eccola qua. Intanto grazie, grazie Martina, grazie al Festival della Politica, soprattutto grazie a voi perché tra un po' arriva il sole, quindi sarà only the brave, quindi grazie due volte. Il grande inganno, vabbè, in realtà, secondo me, chiunque non sia dotata di un cromosoma Y, a naso ci arriva. Che cos'è il grande inganno? In realtà, volendo, diciamo, sintetizzare, il grande inganno è la somma di tutti gli inganni grandi e piccoli che, diciamo, le donne in generale, in qualunque campo operino, ma nel libro, nella fattispecie, sì, mi concentro, diciamo, in quello della politica, è la somma di tutti i piccoli e grandi inganni in cui le donne che si avvicinano alla politica incorrono. E per donne che si avvicinano alla politica intendo uno spettro molto ampio. Martina, giustamente, faceva riferimento alla prima parte del libro che è quella un po', diciamo, che occhieggia alla mia, diciamo, alla mia attività principale che è quella di giornalista di un settimanale nazional popolare e quindi un giornale in cui quando ci avviciniamo alla politica ci avviciniamo, diciamo, con un taglio laterale che passa molto dal privato di chi fa politica. e quindi la prima parte è sostanzialmente ruota attorno a una domanda, cioè, perché non abbiamo neanche una first lady? Con una doverosa precisazione, non è che le donne che ambiscano in qualche modo ad avvicinarsi alla politica debbano ambire ad essere una first lady, quindi la moglie di, ma il succo è tutto in quel neanche. Cioè, noi non solo non abbiamo mai avuto una Presidente della Repubblica, anche se, lo so, Utrend qui forse potrebbe darci delle indicazioni sulle possibilità che Marta Cattabia possa finalmente squarciare questo velo prima o poi a bere, vabbè, ma questo è un altro discorso. Però diciamo, allo stato del, fotografando oggi, non abbiamo mai avuto una Presidente della Repubblica, non abbiamo mai avuto una Presidente del Consiglio, nonostante Marta Cattabia sia stata più volte, anche mentre scrivo questo libro, nominata, perché questo libro, insomma, l'ho scritto durante la crisi del papete, quindi immaginate. Non abbiamo mai avuto una donna Presidente del Consiglio, abbiamo avuto una donna, una sola, sottosegretaria della Presidenza del Consiglio, che è una carica, diciamo, molto rilevante della politica vera, solo nel 2017, ed era Maria Elena Boschi che ha intervistato nel libro e che, insomma, insieme a me, cerca di capire da cosa nasca questa reticenza della politica italiana a concedere spazio alle donne e se uso concedere non è un caso, perché quello che secondo me emerge dal libro è che forse queste donne aspettano troppo che glielo si conceda questo spazio e fanno assai poco per conquistarselo, diciamo, togliendosi dalla scia dei leader maschi. Però per arrivare a questo, cioè, ai motivi per cui la politica fatta, la politica operativa, la politica di governo ha un rapporto, diciamo, problematico con le donne, inizio dal privato dei politici, quindi inizio dalle figure femminili che si sono affiancate negli ultimi 25 anni, perché in maniera del tutto sommaria, arbitraria e opinabile, quindi opinate pure se volete, inizio la mia analisi da quando Silvione è sceso in campo, perché con Silvione scende in campo il corpo e col corpo di Silvio, che conosciamo credo meglio dei nostri ormai, scendono in campo i corpi, a un certo punto tantini, di chi a lui si accompagna. Tra questi corpi c'è la nostra unica proto first lady, che è Veronica Lario, atipica, perché, come spiego, come cerco di ricostruire, attraverso, insomma, aneddoti ed eventi nel libro, lei tenta in tutti i modi di sfuggire a questo vestitino che il marito voleva metterle addosso per puro ego, e però cercando di sfuggirgli, alla fine ci si finisce col disegnare una figura da first lady. Da lei, diciamo, passo in rassegna le altre mogli di presidenti del Consiglio e arrivo, diciamo, alle fidanzate in carica dei numeri uno della politica di oggi, quindi di Giuseppe Conte, di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, sostanzialmente. Letta ancora non era tornato, anche se Letta, la moglie di Letta è citata in quanto moglie di un ex presidente del Consiglio. Cosa emerge da tutto questo? Emerge che quando le donne si avvicinano alla politica per interposto marito, fidanzato o quel che è, scompaiono, scompaiono per scelta loro, spesso, ed è una scelta che racconta molto sia di una generazione, perché Virginia Saba, la fidanzata di Di Maio, e Francesca Verdini, la fidanzata di Salvini, sono molto giovani e sono, diciamo, probabilmente anche per ragioni anagrafiche poco affascinate da quel tipo di visibilità. Quindi spugono a questo, ma spugono a questo anche perché, come cerco di dimostrare nel mio piccolo, hanno interiorizzato un invito a non disturbare, fondamentalmente. Se non quando serve per le prime red carpet, cioè quando devi fare la figurina bidimensionale accanto in questo, e faccio una premessa, con tutto il rispetto per le persone di cui parlo, cioè io faccio un'analisi tecnica, non do giudizi di valore, però tecnicamente in questo l'apoteosi si raggiunge con Olivia Palladino, la fidanzata di Giuseppe Conte, che non esiste di fatto, cioè non ha mai detto mezza parola, non ha mai espresso un'opinione, non è sui social, non esiste. La vediamo quando... Allora, intanto Giuseppe Conte, durante tutto il Conte 1, non si è mai fatto vedere con lei. Li abbiamo beccati solo noi una volta all'inizio, al mare, insomma, una cosa molto abborracciata. Quando è che la presenta? Estate 2019. In realtà, quando comincia a scricciolare il governo, la porta al Teatro San Carlo di Napoli, sotto Natale, se non sbaglio, quando già si parlava di crisi di governo. Perché? Perché che ne dicano loro quando dicono che i giornalisti guardano il gossip, lo chiamano gossip, no? Cioè, quando tu lo fai su di loro è gossip. Quando loro usano i giornali per, diciamo, puntellare un'immagine, pericolare, mettere delle toppe a degli scandali che sanno che stanno per uscire o che sono già usciti, è comunicazione. È la stessa cosa, però, a seconda del... Dipende da chi parte. Quindi Olivia Palladino è, diciamo, se Veronica Lario è stata la proto-first lady che avremmo potuto avere e non abbiamo avuto, Olivia Palladino è forse il segno di questi tempi in cui la politica ancora di più, nonostante il 2021, nonostante nel frattempo Marta Cartabia l'abbia già squarciato un velo perché è stata Presidente della Corte Costituzionale, unica donna nella storia d'Italia repubblicana. Quest'Italia che ancora, insomma, quando si parla di politica, le donne... Fatica ancora a gestirle. Ma proprio... c'è una cecità, diciamo, genetica. Assolutamente. Ascoltandoti mi è venuto in mente quanto, effettivamente, molto di quello che ci hai raccontato si inserisca all'interno di un meccanismo di costruzione della leadership, in questo caso maschile. Ovviamente, come dicevi prima, da Silvio Berlusconi in poi, il corpo, il privato, entra in campo, entra nel dibattito politico, nel dibattito pubblico, attraverso anche il gossip e via dicendo. Però, contemporaneamente, pensavo quanto qui, da noi, questo meccanismo di costruzione di un'immagine di un politico sia molto diverso rispetto a dove il termine first lady, invece, nasce, cresce, al punto tale da noi dover utilizzare un termine anglofono. Tu vedi delle differenze rispetto, a parte, come dire, le dovute differenze rispetto al fatto che noi non abbiamo una first lady, non abbiamo una first lady istituzionalmente riconosciuta, in America c'è addirittura l'acronimo FLOTUS, First Lady of the United States, che ricalca quello di POTUS, appunto il presidente, invece, tu credi che ci sia qualche differenza, anche a livello culturale, tra le due realtà, politico, sociale, che differenze o che analogie vedi tra le first lady americane, quindi le vere first lady, passatemi il termine, immaginate io stia facendo le virgolette con le dita, e invece quelle che si ritrovano ad essere first lady qua in Italia? Guarda, al di là delle, appunto, delle differenze culturali e istituzionali a cui facevi riferimento, perché, ovviamente, la nostra Costituzione, cioè, né quella materiale né quella immateriale prevedono un ruolo codificato per la first lady. Detto questo, fatto salvo anche il fatto che non è che necessariamente serva un ruolo codificato, i ruoli, anche quando non sono codificati, si possono conquistare, quindi, chiusa parentesi. Però, detto questo, il fatto che negli Stati Uniti, per esempio, visto che citavi FLOTUS, si è riconosciuto il ruolo, e non solo, si è riconosciuto seriamente, cioè, la first lady ha un budget, ha uno staff, ha un ufficio, ha un'agenda di argomenti, di temi, che acquisisce all'inizio del mandato del marito e che porta avanti durante il mandato del marito. Ora, ripeto, perché voglio veramente sgomberare il tavolo dagli equivoci, non dico che questa sia l'ambizione di una donna, no? Essere la moglie di un potente con una propria agenda, no? Dico che però il riconoscimento di ruolo, e aggiungo l'esistenza di una parola per definirti, perché una cosa su cui mi soffermo è un dettaglio, ma i dettagli, come spesso accade, non lo sono mai, è un dettaglio rivelatore. Noi non abbiamo una parola che definisca, cioè, se domani la signora Draghi volesse esercitare il proprio ruolo di moglie del Presidente del Consiglio all'americana, noi non sapremmo come chiamarla, dovremmo chiamarla o first lady mutuando il termine dall'inglese o premier dam mutuando il termine dal francese, altra parentesi, noi per avere una first lady abbiamo dovuto farla espatriare, perché Carla Bruni, per riuscire a ottenere un ruolo di questo tipo, è dovuto andare in francese, ho fatto le battute, ma insomma noi non sapremmo come chiamarla, e nel libro mi soffermo con un po' di ironia sul fatto che se dovessimo tradurre letteralmente la cosa, la dovremmo chiamare prima donna, che diciamo in Italia non ha esattamente un'accezione positiva, e soprattutto ce l'abbiamo avuta, nel senso che Veronica Lario faceva l'attrice, ce l'abbiamo avuta anche Elisa Isoardi, a un certo punto nell'ascesa di Matteo Salvini, che ancora pensava di poter arrivare a Palazzo Chigi, prima le elezioni del 2018 e tutto quello che ricordiamo, insomma ci si era un po' vista in quel ruolo, e anche lei è donna di spettacolo, di lungo corso, quindi no, le differenze ci sono, derivano in gran parte probabilmente dall'assenza di una codificazione, e però questa assenza di codificazione non è una conseguenza, cioè scusate, non è una causa, è una conseguenza, è una conseguenza del fatto che, come dice Stefano Barthezaghi, noi non abbiamo i nomi per le cose che non riconosciamo, cioè dare i nomi alle cose significa riconoscere l'esistenza, e riconoscere anche la possibilità che esistano, e quindi capite che il cerchio si chiude, cioè manca il nome, manca il ruolo, manca l'ambizione, manca la posizione, e quindi il peso. Ma infatti stavo pensando che non abbiamo una traduzione per First Lady, e men che meno abbiamo una traduzione per First Husband, cioè... Poi abbiamo un sole bellissimo, stai soffrendo anche, stai soffrendo tantissimo, però faremo finta di niente. Faremo finta di niente, perché poi in realtà, mano a mano che le donne iniziano ad acquistare, ad acquisire... Stai arrivando al mio petto digitale. Al mio petto digitale. Non era preparato. Però è bellissimo. Mano a mano che le donne iniziano ad avere un ruolo politico sempre più forte, sempre più solido, non si parla più di First Lady, ma anche di mariti delle donne. Ecco, lì la differenza la vedi tutta, perché appunto non esiste il termine, anche lì lo mutuiamo. Questa non ha le erre, ma non la so dire lo stesso, vecchio malissimo, ma lo mutuiamo anche lì dall'inglese, con una differenza, che in quel caso, anche se non c'è un termine, il ruolo se lo pigliano lo stesso. Io faccio l'esempio nel libro, e in questi giorni io vi invito, veramente sono tentata di vedere quanti follower ha adesso e controllare quanti ne avrà alla fine di questo incontro, perché gli faccio una pubblicità, dovrebbe ringraziarmi, ma il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini. Andrea Severini che nel libro, quindi adesso ne parlano tutti di questa sua iperattività, io un po' pippobaudescamente l'ho scoperto io, nel senso che Andrea Severini in realtà si fa scoprire da solo, si costituisce da solo, quando Virginia Raggi vince il Campidoglio, diventa prima sindaca della capitale d'Italia, in quel periodo loro non stavano più insieme, si erano lasciati loro, sono sposati, hanno un figlio, però durante la campagna elettorale per l'elezione a sindaca si lasciano, cosa che mi viene confermata dalla Raggi in un'intervista che le faccio prima del ballottaggio, mi racconta anche quanto questa assenza di un uomo accanto le sia pesata, che tu stai lì e dici, vabbè stai diventando sindaca, ce la puoi fare pure da sola, scusate ma Roma viene fuori anche quando, quindi lei viene eletta sindaca e lui, padre di suo figlio, compagno di vita per tanti anni, non trova niente di meglio da fare che sul suo blog scriverle una lettera aperta, perché dirglielo in privato evidentemente non gli bastava, una lettera aperta in cui le fa tanti complimenti, dice guarda adesso comincia il bello eccetera, ma se voi la leggete, io la riporto integralmente, perché vale veramente, ho intrattato quella lettera, lei puntella quella lettera di una serie di rimendicazioni che se dovessi fare quelle cose che fanno i giornalisti, cioè il titolo che sintetizza tagliando con l'accetta, è grazie a me che stai lì, lui le ricorda nell'ordine che a portarla a quel primo banchetto per l'acqua pubblica, per non mi ricordo quale causa primigenia del Movimento 5 Stelle, è stato lui, che tutte le battaglie che abbiamo fatto insieme adesso finalmente potranno trovare voce, potranno trovare sfogo, eccetera, piccolo dettaglio, quando poi si sono candidati entrambi alle comunarie, nella consigliatura precedente a quella in cui Virginia Raggi viene letta sindaco, in cui era stata letta consigliera per il Movimento 5 Stelle, quando si presentano alle comunarie, che ricorderete, sono le selezioni, diciamo, della classe dirigente del Movimento 5 Stelle attraverso autocandidature sulla piattaforma russo, lei prende un tot di click nell'ordine di qualche decina, lui tipo 12, quindi, diciamo, se il popolo ha un valore, diciamo, non ce l'ha portata lui in consiglio comunale prima e al Campidoglio dopo, però in quella lettera lui rivendica un sacco di cose, le dice che Cavaliere senza macchia e senza peccato la difenderà da tutti gli attacchi che riceveremo, usa il plurale, evidentemente non ritenendola in grado di farcela da sola neanche lui, e conclude con un ah, a proposito, mi manchi, tuo marito, Andrea, che no, ex, tanto per, se proprio dobbiamo dire, che succede? Che adesso la sindaca Raggi si è ricandidata, nel frattempo loro ritornano insieme, prendono anche il cane puffo con loro e lui documenta la loro vita insieme, ricordo la vita privata della sindaca della capitale d'Italia, la documenta come se fosse fidanzato con, non lo so, con me, cioè, con una che non ha nessun potere, con foto imbarazzanti, tipo il letto sfatto, con lui che l'aspetta per veicolare il messaggio che lei lavora fino a tardi per il bene della comunità, fotografa un letto sfatto con il letto della sindaca, ti aspetto, che tu ti immagini anche delle cose, le liane, no, cioè, delle robe assurde. Adesso, da quando, diciamo, dallo scorso 2 settembre, lui ha cominciato una simpatica sitcom su Instagram in cui si chiama Un mese con Virginia, 30 giorni con Virginia, e lui ogni giorno fa giorno 1 e documenta quello che la moglie fa nell'ultimo mese di campagna elettorale con delle robe, cioè, tipo, lei che torna dal jogging, lei che mangia solo grani di miglio, queste cose, cioè, delle robe, e la domanda che aleggiava, già con quella lettera, e aleggia ora con questo, un mese con Virginia, è solo una, voi pensate, cosa sarebbe successo se l'avesse fatto la moglie di un candidato, se la moglie di Calenda, la moglie di quartieri, la moglie di Sala, la compagna di Sala, fate voi, cioè, la moglie di Michetti, non so se neanche ne abbia, vabbè, insomma, comunque, se l'aspirante first shura, come dicono a Milano, si fosse cimentata in questo racconto del privato, del candidato, cioè, apriti cielo, e soprattutto, chiedetevi perché nessuno l'ha mai fatto, nessuna di loro l'abbia mai fatto, mentre Andrea Severini non ci ha pensato su due volte, né allora, né oggi. questo, un po' per ridere, un po' no, ci conferma quello che dicevamo prima, cioè, un po' quando non ci sono i termini, non ci sono i ruoli, ma poi c'è quella, quell'interiorizzazione dell'assenza che porta le donne a non pensarci neanche a fare una cosa del genere e gli uomini a riterire assolutamente normale farlo. Perché? Perché io sì. Certo, perché è uno spazio che sentono di poter, in questo caso, Andrea Severini? Sono proprio a loro agio, anche quando non sono loro in prima fila, sono roba loro, è sempre stata roba loro, quindi, perché mi devo fare problemi? Certo, stavo peraltro pensando che, ovviamente, essendoci diverse leader politiche italiane, ma non solo, insomma, nei ruoli apicali, il caso di Andrea Severini è un po' un caso particolare, nel senso che appunto ci racconta di tanti meccanismi che ci è giustamente raccontato oggi, però, ad esempio, il compagno di Giorgia Meloni è una figura che non è particolarmente rilevante, ha certamente un suo spazio, però, come dire, non viene utilizzato pubblicamente ai fini della costruzione dell'immagine politica di Giorgia Meloni, che come sappiamo è una delle principali leader politiche e segretaria di partito, quindi, evidentemente, ha un ruolo di leadership e ti volevo chiedere, proprio in virtù di questo, se vedi uno spazio nella costruzione della leadership di Giorgia Meloni in cui il compagno potrà iniziare a aiutarla ad aumentare questa leadership oppure se invece Giorgia Meloni per sue caratteristiche, per suo posizionamento politico continuerà come una leonessa, che potrebbe dire capitana, potrebbe dire qualcuno, questa scesa nel centro-destra. Secondo me non la vuole chiamare capitana, quel qualcuno. Io credo che lei si arrabbierebbe molto. Lui soprattutto, perché non ne parla meglio che si sente. Che futuro vedi per Giorgia Meloni? Allora, in realtà, la domanda è interessante per due ragioni. La prima perché la narrazione della leadership di Giorgia Meloni è una narrazione molto solitaria. No? lei quando adesso sembra che voglia occhieggiare, ma la narrazione è quella di una donna forte che fa proprio il verso all'uomo forte, Donna forte anche sola, nonostante sola non sia, da quest'uomo, dal suo compagno ha avuto una figlia non molti anni fa, questo suo compagno ha la relazione assolutamente ufficiale, non ha niente di transitorio di clandestino, semplicemente la narrazione dell'immagine, la costruzione dell'immagine politica pubblica di Giorgia Meloni non passa attraverso quella perché? Perché è proprio quella della Le Pen italiana all'inizio, adesso probabilmente la Le Pen vorrebbe essere la Meloni francese, ma questi sono i giri che fanno le cose. Però anche lì cioè nonostante questo proprio si capisce chiaramente che c'è quell'intenzione lì, ma neanche lei è immune per dirti quanto questa roba è proprio annidata tipo tenia nell'intestino crasso della politica che immagina bellissima poetica plastica no vabbè però detto questo è una cosa talmente interiorizzata che persino Giorgia Meloni a un certo punto a Natale anche lì era voglio essere abbastanza certa che fosse il Natale del 2018 quindi in pieno governo Conte lei ovviamente sempre all'opposizione cede anche lei alla tentazione della famigliola il contesto è quello della inerestabile ascesa di Matteo Salvini ok era vicepresidente del consiglio era ministro dell'interno e si avvicinava a trionfare alle europee e ovviamente se adesso Salvini ha paura della Meloni all'epoca la Meloni aveva il tema della crescita di Salvini le ruoli erano invertiti ma il problema era esattamente lo stesso quindi persino lei in un momento un po' per la rincorsa diciamo tutta interna al centrodestra un po' perché in quel centrodestra nell'elettore di centrodestra cioè Dio patria e c'è famiglia quindi ti devi mostrare come una donna forte ma sta famiglia prima o poi me la devi far vedere e lei che fa va su chi si fa fare la classica foto noi non so quante ne abbiamo fatte se io vado io sono figlia dell'ex vice direttore di oggi mio padre è stato in quel giornale 24 anni io me li ricordo anche quelli prima di questi che posavano davanti all'albero di Natale con la mano se uno è seduto in poltona l'altro tutta l'iconografia così anche la Meloni ci casca con tanto di bambina con tanto di intervista in cui dice attenzione a casa comanda lui no? cioè perché perché l'elettore della Meloni comprende anche quella roba lì perché gli piace tantissimo che la Meloni sia la presidente del suo partito però questa a casa poi non è che mi scardina i fondamenti della società no a casa guarda già comando fuori scusami a casa faccio comandare lui ma scherzi la figlia femmina mamma lo decide lui a poco a strettissimo giro lui rilascia credo per la prima volta vado a memoria anche qui ma dovrebbe essere la prima volta anche un'intervista con Libero o col giornale insomma con un quotidiano in qualche modo di area in cui ribadisce che a casa comanda lui e però poi fa questa cosa tipo io però sono sempre stato un po' progressista no? cioè quindi anche quest'amore un po' alla de giro la moboccia cioè un po' destra-sinistra un po' così che è diciamo un altro modo per dare una pennellata di tolleranza eccetera alla donna che viene descritta come il volto dell'estrema destra in Italia capite che possono chiamarlo gossip quanto gli pare ma è tutto tranne che una cosa poco seria e leggera perché in questo e nel libro proprio a farmelo dire da chi meglio di me lo sa e lo studia da tempo quindi politologhi politologhe scusate sociologhe eccetera dipende da un'evoluzione che è quella diciamo che arriva alla concezione del politico come celebrità non come funzionario dello Stato non come delegato dell'elettore non come cioè quello dopo quando arriva dopo prima di tutto è una è un VIP e nel racconto del VIP c'è la famiglia c'è il privato c'è quello che ti piace con cosa addormenti la sera cosa sogni la pace nel mondo eccetera eccetera i programmi politici poi dopo se c'è tempo alla fine dell'intervista certo il lato intimo diciamo diventa una parte fondamentale per l'avvicinamento dal pubblico empatia assolutamente assolutamente sì Marianna ascoltandoti ho pensato una cosa su cui immagino tu possa ragionare più o meglio di me hai citato Meloni hai citato Le Pen due donne non progressiste c'è un motivo vogliamo parlare degli assenti diciamo di leadership femminili a sinistra è un'altra cosa di cui insomma su cui mi interrogo tra l'altro con nel libro sono intervistate Emma Bonino Maria Elena Boschi e Laura Boldrini non Giorgia Meloni è stata una scelta cioè alla fine voglio dire il libro forse è l'unica cosa in cui puoi fare veramente come ti pare no? io ho fatto come pareva a me però detto questo cerchiamo di capire con loro e con le politologhe di cui vi parlavo prima perché cioè in teoria sulla carta no? cioè quelli che si riempiono di più le fauci del no? della parità del stanno qua no? di là c'è la famiglia Dio padre l'uomo la donna a casa comando io eccetera e invece poi no per ragioni che in parte abbiamo già in qualche modo l'ambito no? cioè da una parte c'è una pigrizia culturale mentale e spesso anche proprio caratteriale delle donne a farsi avanti nel libro Maria Elena Boschi mi racconta una cosa che per me è molto emblematica quando lei ho detto Boschi suonano le campane maestro è diventata lenziana maestro è viva e no mi sentite lo stesso? aspetto ok ho perso il conto di quanti tocchi stiamo che è mezzogiorno io non sono molto ferrata sull'interpretazione delle scampanate dovremmo dirglielo a Maria Elena Boschi che appena citata inizia a suonare la campana glielo faremo arrivare se ti come lui smette quindi ma davvero pensavo che si è smessa va bene no tanto che ci avete da fare niente restare al sole comunque era passato il sole adesso sta tornando ed è peggio di quando arrivano a volte ritornano a volte ritornano io approfitto per bere per l'appunto dovremmo esserci scusate il piccolo intervallo molto italiano decisioni superiori peraltro non posso interferire in alcun modo però diciamo forse non sono le 12 forse sono le 27 non lo so che ore siano ma tante eccoci però sta sfumando discretamente si allontana noi salutiamo e andiamo avanti dicevo nel libro Maria Elena Boschi mi racconta questo aneddoto quando lei era appunto sottosegretaria della presidenza del Consiglio dei Ministri era tanto per cambiare periodo di nomine e le nomine possiamo pensarne tutto il bene e tutto il male però a un certo punto hanno pure questa ritualità dell'invio dei curricula bisogna capire quanto poi vengono presi in considerazione però si inviano arrivano curriculum curricula fate voi con le candidature per le varie nomine e lei mi dice a un certo punto diceva bene ok per quanto riguarda diciamo le scelte dei leader per ricoprire ruoli eccetera ok vale il pregiudizio il fare squadra da parte dei politici maschi eccetera ma sulle nomine che in teoria vanno su autocandidatura dice tu mi spieghi perché non arrivavano curriculum di donne eppure voglio dire cioè ormai a livelli anche alti ci sono figure femminili che hanno curriculum competenze esperienze eccetera però non si autocandidavano il perché prova a spiegarmelo nell'intervista successiva Emma Bonino che alla sua maniera cioè con la semplicità della donna di lunga esperienza e di chi ne ha viste direi tutte probabilmente le ha viste tutte viste e fatte diciamo di una conservi Emma Bonino dice sì perché il motivo per cui non arrivavano quelle curriculum come non arrivano in tante altre occasioni autocandidature e così come c'è questa reticenza delle donne anche quelle molto impegnate in politica quelle che fanno della politica il proprio mestiere a immaginarsi in un posto c'è il fatto che a differenza degli uomini noi diciamo esacerbiamo il fallimento cioè se noi ci siamo autocandidate una volta e non è andata pensiamo vabbè non va non va è inutile che ci provo non va il tutto mentre tutto intorno a noi ci dovrebbe dire guarda che tanto non se lo ricorda nessuno che è fallito perché guarda quello iniziamo possiamo fare un elenco di centinaia di nomi maschili che negli ultimi 30 in alcuni casi 40 anni hanno fallito rifallito fallito peggio fallito meglio ma comunque fallito e non ci hanno pensato su due volte né ad autoricandidarsi né a farsi scegliere anche per posizioni importanti le donne invece come dice Bonino prendono una portata in faccia e pensano che sia la portata definitiva che dimostra che loro per quella cosa non sono capaci questo è un un elemento diciamo emotivo psicologico e culturale che loro ovviamente descrivono nella politica senti che il venticello si sta facendo perdonare ho notato un vivido di piacere sulla faccia della carona no però per dire è un elemento che loro ovviamente analizzano nel loro campo cioè nella politica ma se voi fermate un attimo e diciamo fate mente locale anche sulle vostre storie personali o delle persone che conoscete cioè nelle donne oggettivamente c'è una maggiore resistenza a riprovarci e non perché non ci vada ma perché pensiamo che vabbè allora i tempi non sono maturi manco stavolta perché siamo così abituati che i tempi non sono maturi per cui ogni tanto magari facciamo un carotaggio quindi ci candidiamo a qualcosa proviamo eccetera il carotaggio va quasi sempre male e noi ci ritiriamo di nuovo aspettiamo che passi l'onda magari arriva tra qualche altro annetto una possibilità no cioè proprio proprio no cioè non so come dirlo altrimenti no anche perché poi non ci possiamo lamentare esatto no stavo pensando peraltro appunto porto la nostra piccola esperienza come Quorum New Trend che ci capita di aprire posizioni per cercare ricerca di collaboratori e l'ultima volta dei curriculum arrivati solo l'8% era di donne capito e quindi evidentemente c'è anche una questione non ci sono donne appassionate di comunicazione e politica e tendere ad escludere e soprattutto organizziamo ogni anno a Torino Election Days che è un workshop insomma che conosci anche molto bene perché abbiamo avuto il piacere di averti come ospite e in questa edizione però per ora le domande di iscrizione sono sul 25% di donne per cui anche lì anche in un format in cui non si tratta di provare a mettersi alla prova e scusate la ripetizione sottoponendo le proprie competenze la propria professionalità ma andare ad imparare c'è comunque una forma quasi a un'autoselezione perché è quel mondo che viene percepito come esclusivamente maschile esclusivamente nel senso che esclude il femminile cioè quindi tutto quello che gli ruota attorno viene visto come un terreno quantomeno un terreno non fertile quando non ostile ed è veramente una cosa ormai veramente inaccettabile cioè non voglio fare quella retorica anche se ogni tanto poi mi scappa la frizione sulla retorica però cioè se l'Europa si sta forse forse salvando è merito di due donne no? cioè io che non sono al di là delle scampanate sono atea non credo eccetera ma io non ci riesco a credere che sia un caso che nel momento proprio delle catombe dell'apocalisse che si abbatte sul mondo eccetera a salvare la situazione ci si trovino casualmente Angela Merkel Ursula von der Leyen non è un caso è che quando le cose sono difficili le donne no? ma non perché siano più brave semplicemente perché lo sanno fare lo sanno fare esattamente come gli uomini ma il fatto che come dire a decidere il cambio di rotta dell'Europa verso l'unica cosa che può darle un futuro perché non so come la pensiate voi ma se ne usciamo ne usciamo solo seguendo il solco che è stato tracciato con il Next Generation U e con tutto quello che si spera venga dopo il fatto che siano lì due donne ci dimostra che si può fare cioè basta ritenere possibile che si faccia non so come dire cioè non c'è bisogno della 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 congiuntura astrale o del leader che ti leader maschio che ti concede spazio né Angela Merkel né Ursula von der Leyen si sono fatte concedere uno spazio se lo sono preso la cosa non ha interferito con le loro vite private perché quanti anni figli c'ha la Ursula 7 figli credo una città di questo voglio dire le donne non fanno carriera perché sai scegliere tra famiglie ma perché devo scegliere quindi ritornando diciamo al tema che sollevavi è vero che non ci sono che non sono dati spazi è vero che non sono spesso neanche previsti è vero che sempre più spesso al di là del pink washing che fanno tutti i vari partiti eccetera non si quaglia davvero mai ed è vero che nei partiti di sinistra io penso al PD e al casino che c'è stato per le due capogruppo perché dovevano essere due donne no perché devono essere due donne se mi dici che se Racchiani è la più figa di tutte ok poi è anche una donna va bene e allora se il discorso fosse stato affrontato così invece no serviva un pink washing visto che le candidature e le posizioni nel governo Draghi erano guarda caso tutte maschili perché tutte espressioni di correnti e i capi correnti sono tutti uomini e quindi serviva quella roba lì quindi è vero che non viene dato spazio ma è vero anche che non se lo prendono perché voglio dire all'interno del partito democratico voi viene in mente qualcuna che davvero non in un'intervista estemporanea non su un caso specifico ma davvero sistematicamente si sia distanziata dalla linea politica del leader della propria corrente a me no quindi c'è quantomeno un concorso di colpa certo e chiudo cioè Giorgia Meloni che adesso portiamo esempio se l'è dovuto fondare il partito cioè fare la scalata va bene però se l'è dovuto perché anche lì insomma non è che a destra danno spazio le donne no per prenderselo se l'è dovuta se l'è dovuta fondare lei senti Mariana abbiamo citato Ursula von der Leyen abbiamo citato Angela Merkel non a caso entrambe citate con nome e cognome stavo pensando quindi a quanto si possa ricercare anche nell'esercizio dei media tradizionali e non di utilizzare spesso il nome e non associare il cognome a racconti aneddoti attualità anche politica rispetto quando vengono raccontate appunto donne così come pensavo a tutto quel meccanismo che c'è interno ai media di come dicevi prima raccontare le poche donne che sono in politica sempre come delle degli angeli del focolare oppure estremamente aggressive in questo caso penso a Giorgia Meloni in modo tale da rassicurare quella parte maschile che quindi si riconosce c'è una bravissima studiosa Catherine Jevinson che nel 95 ha scritto questo articolo accademico riguardo a quello che lei chiama l'effetto del doppio vincolo il double bind effect per cui una donna in politica o è estremamente aggressiva e quindi cerca di assomigliare a un uomo oppure è estremamente vicina all'immaginario come dicevi dell'angelo del focolare e quindi rassicurare in qualche modo un'opinione pubblica abituata a vedere le donne in questa chiave i media in questo racconto ma anche le politiche che adottano questa narrazione di sé hanno comunque un grande ruolo quindi infantilismo e quindi il fatto appunto che le donne vengano raccontate anche ad altissimi livelli come Federica la donna che sogna la NASA cito un articolo tutto vero tutto vero esatto e quando questa Federica non è una donna che sogna la NASA è una scienziata è una scienziata incidentalmente e via dicendo stavo pensando effettivamente è una cosa che i media alimentano per le dinamiche anche che ci hai raccontato o di cui sono schiavi passami il termine tutte e due le cose ovviamente è la complessità che rende poco definiti i confini delle colpe e delle colpe subite delle colpe inferte di quelle subite ma in realtà è una cosa che è esulata alla politica tu facevi l'esempio della scienziata che nei titoli perde il cognome perde la qualifica perde tutto rimane solo una donna con un nome di battesimo e ci dice che è un problema che ovviamente è esulata alla politica io non so se vi ricordate allora noi abbiamo dei vaccini e li abbiamo avuti per il covid 19 li abbiamo avuti in tempi così brevi perché delle scienziate per qualche decennio hanno studiato un sistema per ora io lo dico malissimo perché dicevamo prima con Martina io e la scienza siamo proprio io e la geografia però sì vabbè ve la faccio brutta queste hanno trovato il modo per stagliuzzare il DNA e farci un po' quello che serve di volta in volta ho detto proprio che adesso arriva il fulmine Burioni adesso ma questo ha fatto vincere loro il Nobel quindi è una roba enorme noi abbiamo visto dei titoli tipo le sartine del DNA le sartine cioè queste sono per 30 anni sono state lì davanti a un microscopio a fare a capire come rendere all'umanità un favore per cui non le ringrazieremo mai abbastanza e le abbiamo definite sartine è un problema sì è un problema perché come dicevamo prima le parole che usi o e che hai e che non hai dicono molto di come pensi e di come vedi il mondo però è un problema molto molto scivoloso perché come spesso accade in questi tempi un po' estremisti noi ci siamo tutti radicalizzati sul web come si diceva una volta dei terroristi no visto che oggi è pure 11 settembre insomma di quei terroristi lì si diceva di quelli del Bataclan e di quelli di Charlie Hebdo eccetera che siano radicalizzati sul web noi pure ci siamo radicalizzati tutti ci siamo radicalizzati sul web perché abbiamo interiorizzato una sola maniera di approcciarci alle cose cioè a favore a favore a favore contro 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 cioè non ci sono più non c'è lo spettro delle vie di mezzo della mezza misura dell'analisi della complessità e lo dico per cosa per dire che in questa fase c'è chi stigmatizza tantissimo quei titoli dicendo non esiste che si perde il cognome ed è giusto non sto criticando figuriamoci e quindi in funzione di quell'esempio sbagliato lì comincia con una serie di rivendicazioni che vanno all'eccesso opposto per cui io magari è la vostra migliore amica non lo so però io quando mi sono ritrovata a leggere un articolo di Michela Muggia che usava la Schwa io no cioè il titolo senza cognome no ma neanche quella roba lì perché perché allontana dal fulcro del problema cioè quella roba lì io non dico che sia sbagliata dico che forse prematura dico che forse è la chiave sbagliata per cercare di risolvere il problema perché è una chiave che pretende un'assunzione in toto e le assunzioni in toto sono radicali quindi o ce l'hai dentro o non le puoi stimolare con l'imposizione di un modo diverso di parlare puoi stimolarle con l'introduzione di un modo diverso di pensare i modi diversi di pensare possono diciamo crescere e diffondersi solo se c'è un dialogo quella roba lì il dialogo lo ammazza anche perché non capisci che cosa ti stanno dicendo perché tutto quel suono un po' così un po' un po' neutro è abbastanza catanzale no vabbè io mi invito ad andare su youtube e cercare l'hai visto è bellissimo un pezzo in cui Flavia Fratello credo a stante regime di Radio Radicale durante la rassegna stampa di Radio Radicale Flavia Fratello che l'avete vista condurre Omnibus sulla 7 c'è una giornalista del TG di La 7 che conduce la rassegna stampa di Radio Radicale e a un certo punto ha deciso di leggere un articolo di Michela Murgia con Le Chva pronunciando che sono un suono e e veniva fuori come dice la fratella una sorta di catanzarese stretto che rendeva abbastanza incompensibile tutto al di là dell'efficace spediente autorale della Fratello che rende l'idea di quanto strano sia quell'imposizione però tornando al fulcro della discussione quello è un problema però bisogna mettersi d'accordo su quali possono essere le soluzioni la soluzione non è urlare al patriarcato se sparisce un cognome il punto è capire perché sparisce un cognome chiedere di rimettere pretendere che chiunque di noi venga intervistato o intervisti o abbia una voce anche sui social adesso non è che bisogna essere forza giornalisti o opinion leader o politici per avere una voce ci sono i social pretendere di essere nominati e qualificati per quello che siamo e non per come ci vedono gli altri ma sempre sulla base di un vocabolario condiviso e di un dialogo che non deve passare per estremismi cioè io mi sono sentita cazziata si può dire cazziata? si può dire vabbè durante l'intervista Bonino mi ha cazziata perché dicevo la Boldrini e io lo so che lei c'ha ragione perché io non dico il Gasparri ok quindi perché devo dire io lo so che è sulla carta ma trovo anche che sia eccessivo farne un problema cioè trovo più utile che chi crede che questa sia una cosa importante quando parla si regoli di conseguenza e quindi dica Bonino Boldrini invece che la Bonino e la Boldrini ma fare una colpa all'altro perché dice la Boldrini io trovo che sia una cosa che uccide il dialogo poi mi rendo conto che diciamo le femministe diciamo di questo momento storico non sono d'accordo e mi hanno anche piuttosto criticata per questa roba perché dice che appunto anche questa è un'interiorizzazione del patriarcato però io ritengo di aver interiorizzato niente no poi peraltro credo che queste siano delle piccole misure piccole o grandi che siano che comunque si possono introdurre spiegandole non attaccando chi non le adotta ad esempio spiegando perché sono giuste non imponendole facciamo il green pass non facciamo l'obbligo vaccinale e vogliamo fare l'obbligo dell'assenza di articolo o della schwa cioè andiamo piano metodo Draghi graduale assolutamente senti ultima domanda poi poi moriamo credo io intanto ho preso la tintarella passando da sacro a profano come dicevo nella seconda parte del tuo libro fai una piccola piccola no una approfondita e molto anche divertente rassegna di quelle che sono state le premier dam le first lady in Italia e vorrei che tu ci raccontassi visto anche che parlavi di social di due diciamo che sono state abbastanza emblematiche due momenti che sono stati emblematici il primo è il modello agnese di cui addirittura ne parli con Filippo Sensi spin doctor di Matteo Renzi oggi parlamentare del partito democratico ma comunque uno di quelli che ha inventato la costruzione del racconto del politico in Italia sicuramente l'ha alimentato e poi volevo chiederti visto che si parlava di social del famoso after sex selfie di Elisa Isoardi e Matteo Salvini credo che sia stato uno dei più bei regali che abbiamo ricevuto nella vita Salvini non lo so ma io sì da quale iniziare Salvini secondo me non l'ha molto apprezzato secondo me no però io tantissimo non ci volevo credere pensavo fosse Natale invece era Novembre e no comincio da Sensi così poi chiudiamo con il gossip visto che modello agnese allora io adesso faccio un breve discorso perché anche se siamo tutti giovanissimi sono passati un po' di anni quando Matteo Renzi arriva a Palazzo Chigi Filippo Sensi che sui social trovate come Nonfup era il suo portavoce ed è stato anche in qualche modo lo storyteller del renzismo ha raccontato il suo era proprio un racconto obamiano non a caso era un racconto alla pizzusa cioè il fotografo ufficiale di Barack Obama era un racconto molto emotivo anche c'era tutta l'ufficialità c'era tutto però c'erano anche la foto rubata o quasi la foto magari non tecnicamente perfetta ma rivelatrice di un umore di una situazione di un problema o di una soluzione e in questo racconto ogni tanto compariva anche Agnese Renzi e dico ogni tanto perché Agnese Renzi alla maniera di Veronica di comparire non aveva nessuna voglia lei non si è mai trasferita a Roma con il marito ha sempre continuato a vivere vicino Firenze con i figli ha sempre continuato a seguire i figli ha sempre continuato a insegnare tant'è vero che l'unico modo per tentare di intervistarla a un certo punto mi sono presentata a scuola mi sono aspettata fuori uscita appena uscita tre quattro cose gliel'abbiamo fatta dire ma è veramente è una roba da agguato alla celebrity lei che appunto tutto voleva tranne che la celebrità il Filippo Sensi e io nella nostra intervista dissentiamo su questo perché io appunto le rimprovero l'assenza nonostante Agnesa Renzi abbia veramente una personalità molto interessante cioè non è che non avesse niente da dire ha deciso di non parlare mentre Filippo Sensi dice no proprio in quel suo sottrarsi c'è in qualche modo un modello di stavo dicendo di leadership femminile ma no neanche stavolta c'è un modello un modo di interpretare il ruolo della moglie del presidente del consiglio che ha un suo senso perché perché lei c'era quando doveva esserci c'era lecine alla Casa Bianca c'era nei viaggi nella Silicon Valley in cui Renzi tra l'altro c'è una foto bellissima che credo erano da Google erano nella sede di Google nella Silicon Valley e Matteo Renzi ve lo immaginate Matteo Renzi da Google cioè tipo io in un negozio di una friggitoria non lo so un negozio di panzerotti c'era una roba ditemi che è vero e quindi c'è questa foto per dire racconto emotivo in cui c'è Matteo Renzi che trova i Google Glass tra l'altro grande blef quindi quella foto in qualche modo vabbè e trova questi Google Glass che erano questi occhiali che dovevano connetterci fare fare foto telefonare tutto con gli occhiali adesso ci sta riprovando Luxottica e è appoggiata a una finestra quindi immaginate poi insomma andatela a recuperare ancora sul profilo di Filippo Sensi da una parte c'è appunto Renzi che inforca gli occhiali con l'aiuto evidentemente di qualcuno di Google e appoggiata a una finestra così ma con questa espressione come della mamma che aspetta che il ragazzino finisca al diciottesimo giro allo scivolo del parchetto quell'aria lì ce l'abbiamo avuta tutti ma poi tutte direi ed è una foto così rappresentativa del renzismo se vuoi forse involontariamente rappresentativa del renzismo perché la verità trova sempre il modo per venire fuori che che però racconta molto Agnese cioè ha diciamo subito quella situazione e ha alzando gli occhi al cielo silentemente aspettato che finisse magari pregato che finisse e non lo sapevo mai e questo per me è un silenzio per Filippo Senzi è una scelta ponderata e molto comunicativa quindi insomma per dirvi che non c'è solo la mia versione cioè era facevo come inviadeva però insomma ospitavo anche pareti discordanti venendo invece posso fare un ragionamento riguardo Agnese Renzi ho pensato che tu nel libro definisci anche quali che sono le caratteristiche della first lady cioè l'essere la compagna effettiva di un leader esserne la compagna di vita e soprattutto essere a sostegno diciamo della sua attività politica Agnese Renzi non è stata a sostegno se non nelle occasioni ufficiali per cui si è un silenzio a senso un silenzio a senso forse ha anche avuto un ruolo di questo tipo perché la figura femminile vicina a Matteo Renzi era forse più Maria Elena Boschi per cui c'era anche c'era un po' d'affollamento nella comunicazione politica del senso per cui stavo anche ragionando come Agnese Renzi si sia defilata ma effettivamente anche perché c'era qualcuno che già prendeva in qualche modo quello spazio però sono due spazi diversi molto diversi nel senso ora senza diciamo fare battute che da tanto tempo si fanno a sproposito anche però diciamo è vero che la figura femminile il biglietto da visita del renzismo è stato dal primo giorno dall'esordio al maggio fiorentino con l'abito rosso che non so se io voglio poi adoro dettagli quell'abito portato un po' così la Leopolda con le scarpe leopardali la giaguara certo per dire il modo con cui raccontiamo le leadership femminili nascenti dalle scarpe la giaguara vabbè sì io sono rovinata comunque nel senso se il parametro è quello non vado vabbè però detto questo è vero che il biglietto da visita del renzismo era già era una casella già occupata in modo molto più operativo e fattivo e fattuale da Maria Elena Boschi però non sono due ruoli cioè lo spazio c'era perché non sono due ruoli sovrapponibili e generalmente l'agenda tra virgolette della first lady è un'agenda che non si sovrappone a quella né dell'allora ministero per le riforme o delle pari opportunità né a quella tantomeno a quella politica del leader quindi diciamo io ci vedo veramente una scelta anche forse a tutela della famiglia perché insomma non deve essere facile essere la moglie di Matteo Renzi mi sa che no no ma la moglie di questi in generale però insomma Matteo Renzi è ingombrantino insomma quindi detto questo invece non aveva nessuna difficoltà diciamo anzi anzi a proporsi come la aspirante moglie di perché ha fatto più di un'intervista più di una copertina dicendo che appunto lei se lo sarebbe sposato domani se solo lui gliel'avesse chiesto e lui se ne è guardato bene Elisa Isoardi che è stata a lungo compagna di Matteo Salvini è stata compagna di Matteo Salvini durante la sua inarrestabile cavalcata verso la leadership del centrodestra allora inarrestabile mi viene da dire e lei evidentemente forse perché donna di spettacolo abituata a stare sotto i riflettori forse perché diciamo tendenzialmente più smaliziata delle altre che abbiamo incontrato in questa in questa analisi si proponeva molto ai giornali come la la first lady in pector fino a che lui non la molla travolta dallo shock lei pubblica una e con questo comunica alla fine della relazione pubblica una foto che avete visto sicuramente tutti sul proprio account Instagram che a un certo punto valeva come agenzia di stampa quando stavano insieme ci succedevano pubblica questa questa foto in cui lui è seminudo adagiato su di lei in accappatoio ovviamente lei meravigliosa al trucco perfetto smokey eye cioè una foto casualissima lui con tutto rispetto sempre ma tipo un dugongo cioè un tricheco abbandonato spiaggiato cioè una cosa impietosa e pubblica questo questo post per dire appunto che le cose più belle sono quelle che non abbiamo fatto eccetera lasciando entra vedete visto che erano mezzi inutili chissà che cacchio avevano fatto prima cioè lui era vicepresidente del consiglio e ministro dell'interno cioè voi immaginate in qualsiasi altro paese non del mondo ma dell'universo ammesso che esistano che eh scusa lui lui la prende diciamo con nonchalance come prende tutto il resto insomma è abbastanza gommoso no gli rimbalza quasi tutto ogni tanto solo radamente si riescono a intravedere delle reazioni autentiche a quello che gli succede attorno però incassa ma incassa male e però siccome è un animale da social e due volte che lo associa un animale giuro è causato no veramente no io chiedo scusa non è non è satira speech insomma è un complimento di questi tempi dire che uno è un animale da social e switcha quella che poteva essere oggettivamente una buccia di banana nella comunicazione istituzionale del ruolo per quanto lui ci tenga poco ma era brutta proprio quella roba lì tra l'altro si prestava a tutta una serie di interpretazioni e di etologie per cui è un pizzino lei gli vuole dire che in realtà c'ha altro che può pubblicare cioè è partita potete immaginare tutta la fantascienza dell'interpretazione dietrologica lui che fa lui riesce a switcharla in positivo per cui forse anche consapevole del tipo di elettorato che ha e che aveva insomma quel momento era anche più pingue più numeroso interpreta immediatamente il ruolo dell'innamorato che è stato lasciato per cui vi ricordate le foto che lui pubblica in quei giorni cioè lui lui alla finestra col tramonto buona serata a voi amici le cene le cene da single c'erano dei piatti di pasta che tu dici neanche al mio cane cioè delle cose scotte con una scatoletta di qualcosa buttato sopra cioè tu vedevi quelle foto e se superavi diciamo lo shock della visione lo immaginavi sofferente empatizzavi e davi ragione a lui qualunque cosa fosse successa non sappiamo nessuno sa perché si siano lasciati ma gli davi ragione ottima comunicazione di crisi da consulente ma chapeau cioè proprio immaginate tutte le signore capito oppure tutti quelli che erano appena stati lasciati o tutte quelle che erano appena stati lasciate no vabbè ma uno di noi è come me soffri per amore come me quella stronzo cioè no perché poi un attimo infatti lei poi si ritrova un sacco di insulti non fu una bella pagina diciamo però se l'era abbastanza cercata diciamo non si era nascosta mettiamola ma mai mai ha continuato anche dopo tra l'altro è una che ha provato a proporsi come first lady anche quando non stavano più tipo Andrea Severini ecco per chiudere il cerchio no che poi peraltro in questo caso Matteo Salvini non ha fatto dicevo da consulente l'ho vista come un'ottima gestione della comunicazione di crisi proprio perché ha fatto leva su quello di cui poi abbiamo parlato durante tutto questo incontro cioè l'empatizzazione l'empatia la ricerca l'umanizzazione di parlare la stessa lingua degli utenti cittadini elettori che ti guardano per cui evidentemente come dire tutto si inserisce in un contesto molto ampio tra l'altro scusa ti interrompo solo per dire perché noi adesso per quanto tra poco ci torniamo secondo me però era il periodo in cui lui era cioè lui aveva la bestia sui social e i nuovi animali qua finisce malissimo però la chiamano così in centro niente metto solo in fila le cose però era il periodo in cui lui veramente era il volto truce della comunicazione cioè sparava zero sui migranti sparava zero sui barconi in senso metaforico almeno cioè era veramente un momento in cui lui era il cattivo in quella fase lì la narrazione di sé come il cuore infranto le sedate sono in Italia e la pasta scotta capolavoro cioè applausi ma veramente applausi adeguamento della propria comunicazione senti prima di salutarci volevo chiudere con un'altra figura politica che è riuscita a trasformarsi e tramutarsi anche grazie alle donne che l'hanno accompagnata cioè Luigi Di Maio Luigi Di Maio è partito da una figura estremamente legata a un ambito comunque movimentato diciamo il Movimento 5 Stelle adesso è un po' il rappresentante dell'area governista chiamiamola così dell'area istituzionale di quella con cui si può interloquire anche in sedi piuttosto elevate lo ha fatto anche grazie a comunque un avvicendarsi di compagne ci vuoi raccontare un po' qual è come si arriva a Virginia Sala è un tratto molto interessante delle connessioni privato pubblico che spesso si verificano nelle vite dei politici quando nel 2013 stiamo chiamando Alessandro Di Maio così Luigi Di Maio arriva mix esplosiva non lo so Alessandro sì infatti all'epoca erano un po' Alessandro Di Maio Gigi Di Battista adesso no adesso meno però diciamo quando Luigi Di Maio arriva nel 2013 insieme alla prima ondata maxi ondata di 5 stelle 25% che credo che fosse nel Parlamento con le elezioni del 2013 quando noi gossipari gli andiamo a chiedere ma non sei proprio fidanzato sposato come stiamo messi e lui risponde sono single per colpa della politica uno che fino al giorno prima la politica non la faceva ma sei sicuro comunque sono single per colpa politica perché volendo così diciamo veicolare il concetto che era così impegnato appunto nelle battaglie del Movimento 5 Stelle da non avere tempo modo voglia eccetera il fatto sta che da quel momento in poi la politica gli dà praticamente tutte le sue fidanzate quindi la risarcito in qualche modo nella frattispecie la prima delle fidanzate che questa diciamo io la chiamo nel libro l'endogamia intraspecifica dei 5 stelle cioè i 5 stelle tendono a stare tra di loro anche sentimentalmente cioè non hanno hanno un po' ancora mantenuto almeno nelle cose di cuore questo questo senso di arroccamento di difesa dall'esterno non ti puoi fidare di nessuno in politica figurati a letto quindi si scelgono tra di loro Di Maio in questo è proprio il biglietto da visita perché lui quando diciamo arriva in Parlamento si ritrova a far parte di un gruppo di deputati senatori dei 5 stelle selezionati dalla Casaleggio per in qualche modo essere formati a essere la prima linea ok perché a un certo punto succede questo che quando Gianroberto Casaleggio il Casaleggio padre insomma Gianroberto Casaleggio era ancora vivo a un certo punto si presenta da lui a Milano nella sede della Casaleggio Associati una signora con un dossierone che analizzava la comunicazione degli eletti dei 5 stelle dicendo non lo sanno fa guarda fidati non lo sanno fare hanno bisogno che qualcuno gli dica come si comunica se vuoi ci penso io chi era lei era Silvia Virgulti che è una super esperta di comunicazione politica e non solo che viene quindi inviata da Gianroberto Casaleggio a Roma a formare questa prima linea e forma oggi forma domani alla fine Di Maio e la Virgulti si fidanzano stanno insieme 4 anni e non è un caso i 4 anni in cui lui diventa la grisaglia un po' diciamo ha contribuito il fatto che appena è entrato in Parlamento diventa vicepresidente della Camera e insomma aveva 27 anni era giovanissimo si impinguina un po' anche per quello però la formazione di Silvia Virgulti il tocco di Silvia Virgulti si vede molto chiaramente nello standing che Di Maio acquisisce vanno a vivere insieme a trastevere c'è proprio una cosa una storia assolutamente per una volta al contrario in cui è lei che informa nel senso che dà una forma a lui fino a che addirittura si fanno fotografare in coppia e intervistare in coppia con delle foto all'House of Cards cioè lei seduta così e lui in piedi mano sulla spalla c'è una cosa che i 5 stelle tant'è vero che loro a un certo punto quando uscì il giornale provarono a dire che erano foto rubate scusate va bene tutto cioè se voi in casa state così cioè vabbè ok non so se vi conviene dirlo però diciamo era intervista e foto assolutamente concordate cioè le foto intervista e però per dire cioè era proprio una coppia istituzionale lei aveva se Di Maio fosse diventato premier con le elezioni del 2018 insomma avremmo avuto una first lady ma ce l'avremmo avuta magari non davanti però c'erano tutti gli elementi per purtroppo non passa l'estate del 2017 è stata in cui si lasciano Di Maio ha una relazione di qualche mero 7-8 mesi con una consigliera comunale dei 5 Stelle del comune di Alcamo Giovanna Mirabella si lasciano per colpa delle consultazioni cioè quando vi ricordate nel 2018 le consultazioni sembravano non finire stavano durando tutta la legislatura cioè andavano avanti a consultarsi non ci riuscivano e quando Di Maio giura con il primo governo Conte Giovanna Melodia non c'è perché si sono appena lasciati loro siamo conosciuti durante la campagna elettorale per le elezioni in Sicilia di Di Ebreve ci sono elezioni in Sardegna durante il giro della campagna elettorale e elezioni in Sardegna Di Maio conosce Virginia Saba gli fanno bene le campagne elettorali ma forse le organizzano per quello organizzano per dare a Di Maio una vita sensuale non lo so però di fatto lui e Virginia Saba si mettono insieme a gennaio del 2018 subito prima delle elezioni contemporaneamente al nascere dell'amore tra Salvini che era il principale competitor di Di Maio e Francesca Verdini quindi questo spontaneo sorgere di amori preelettorali qualche dubbio lo aveva messo sulle due storie che però durano ancora quindi è vero amore non abbiamo motivo di dubitarne però anche Virginia Saba è nel movimento perché è la diciamo non so se si dica ancora portaborsa comunque l'assistente parlamentare di una deputata di Emanuela Corda che è una deputata del Movimento 5 Stelle e diciamo oltre a dare una una rappresentazione plastica appunto di questa endogamia intraspecifica del Movimento questa sequenza di fidanzate quindi Silvia Virgulti Giovanna Melodia Virginia Saba è molto rappresentativa dell'evoluzione che ha avuto Luigi Di Maio cioè Virginia Saba oltre ad essere una appunto un'assistente parlamentare è una grande studiosa di musica classica ha appena pubblicato un libro proprio sulle variazioni Goldberg e sul concetto di bellezza nelle variazioni Goldberg è iscritta a teologia è una ragazza è un'ex atleta giocava a basket era una professionista insomma nel Cagliari è una giornalista ha lavorato in al Tg.com a Videolinea che è comunque un'emittente sarda cioè è una figura molto molto polietica ed è se mai Luigi Di Maio dovesse ambire nuovamente arrivare a Palazzo Chigi mi sento di esclude però insomma con la velocità con cui cambiano i giochi qui insomma non è del tutto escluso insomma se dovessero mai esserci le condizioni sarebbe una figura interessante perché lei per esempio non è così restia ad avercela una fisionomia poi non parla aveva parlato all'inizio ma è stata subito richiamata all'ordine però ha una sua una sua comunicazione interessante mi invito a seguirla su Instagram insomma ha una fisionomia che si presterebbe potrebbe avercela chissà allora che non potrà essere un'occasione per scrivere un nuovo libro aggiornando sicuramente scusa più di quelli della compagna di D. Battista posso? Sara Luisiana la madre dei suoi figli io seguo tantissimo ho capito ma c'hai codici sconto fatti con le influenze cioè va bene tutto ma non è che uno si lavori da prostleti cioè con codici sconto esatto proprio da ragionare su i meccanismi di costruzione della figura più o meno pubblica e di quanto effettivamente poi l'aspetto privato nella costruzione di una ma voi come state facendo senza acqua scusate gli sto morendo però li vedo tranquilli con la mascherina però appunto dicevo hai sottolineato nuovamente giustamente in modo assolutamente esaustivo di quanto effettivamente ma lo fai anche dentro tutto il libro la parte privata di una figura politica non è più neanche tanto privata per cui assolutamente ti ringrazio come dire per averci raccontato questa tua opera che appunto vi rimostro il grande inganno lo trovate edizione PM lo trovate ovviamente in tutte le librerie però veramente credo che sia stata un'ottima occasione spero lo sia stato anche per voi sentirci parlare per raccontare quello che è un pochino la cifra della comunicazione e forse anche della politica di oggi e quale migliore occasione se non il festival della politica per cui grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie per l'invito e per la resistenza soprattutto grazie se avrete una bellissima tintarella è merito del festival merito della politica grazie 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 a tutti grazie a tutti